Buongiorno Raffaele, eccoci arrivati alla nostra lezione del mercoledì. Oggi noi parleremo dell'ONU, come in tutte le lezioni, ci sarà sempre un discorso in inglese con traduzione in italiano e ti chiederei di fare il solito riassunto di 50 parole. Grazie dell'attenzione e buon lavoro. So, United Nations is an international organization founded in 1945. We know that this organization was founded after the Second World War because member states wanted to maintain the peace between all the states involved in the war. We can find its mission and its work in the Charter. And the United States Nations is made up of 193 member states. And each of the 119 member states of the United Nations is a member of the General Assembly. So, states can enter, so can become a membership in the United Nations by decision of the General Assembly after the recommendation of the Security Council, which are the main organs of the United Nations, the main organs are General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Transship Council, the International Court of Justice and the Secretariat. and all the organs were established in 1945 when the organization was founded. So, the Secretary General of the United Nations is a symbol of the organization and he has the interests of the world peoples and he follows all the principles of the United Nations. So, the Secretariat is organized along departmental lines and at the head of the United Nations Secretariat is the Secretary General. The United Nations system is made up of programs found and agencies. So, this is our lessons of the United Nations. Ora facciamo la nostra traduzione. Allora, le Nazioni Unite, quindi l'ONU, è un'organizzazione internazionale che è stata fondata nel 1945 dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati membri decisero che, in vista dei danni provocati dalla Seconda Guerra Mondiale, ci fosse pace all'interno proprio del mondo. I principi, quindi il lavoro e la missione, vengono illustrati nel documento affermato appunto dagli Stati membri. Ognuno dei 193 Stati membri è un membro dell'Assemblea Generale. Allora, gli Stati possono entrare nell'organizzazione sotto decisione dell'Assemblea Generale, sotto raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. Quali sono gli organi principali? Gli organi principali sono l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, la Corte Internazionale di Giustizia, poi abbiamo il Segretario delle Nazioni Unite, e poi abbiamo anche il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria. Quindi dobbiamo dire, innanzitutto nel nostro studio dobbiamo dire che quando è stata fondata l'ONU, perché? Gli organi che appartengono all'ONU, dobbiamo dire che il Segretario Generale segue i principi che vengono proprio emanati nei documenti firmati al momento della nascita dell'organizzazione. Quindi il Segretario è la guida, è il simbolo dei ideali e dei valori che rappresentano l'ONU. Allora, che cosa abbiamo noi? Poi dobbiamo dire che il Segretariato è organizzato secondo dipartimenti e ogni dipartimento ha la sua responsabilità e la sua missione. E a capo del Segretariato delle Nazioni Unite c'è il Segretariato Generale. Inoltre l'ONU è composta anche da programmi, fondi e agenzie specializzate che portano avanti gli obiettivi per i quali questa organizzazione è nata. Ti ringrazio e ti auguro buon lavoro.